Parliamo di modernizzare l'amministrazione, quindi il comune e anche il territorio, un impegno molto grande. Beh, io mi sono candidato per questo, cioè se non serve per cambiare, tanto voleva che stessi a casa mia onestamente. Il fatto che sto cambiando lo si vede da tutto quanto questo popò di seguito che ho. Cioè effettivamente si era abituati a una Venezia passiva, un po' dormigliona, che accettava un po' tutto e che poi però abbiamo visto com'è finita nel degrado più assoluto. Siccome noi abbiamo un mandato preciso che è sicurezza, degrado e sviluppo economico, sullo sviluppo economico abbiamo appena detto che Porto Marghera e Murano sono due assi fondamentali. Sul degrado e sulla sicurezza bisogna parlare anche dell'educazione delle persone. Le persone tutte, e lì la maleducazione non ha colore, non ha bandiera, non ha partito. Bisogna aggredire la maleducazione. L'acqua, le calli, la città, è di tutti. E per cui diciamo a tutti che uno che fa un segno su un marmo, su una pietra a Venezia, offende il mondo. E allora il mondo deve indignarsi anche di questo e non soltanto delle idee che purtroppo non possono essere uguali per tutti. Noi ci stiamo impegnando forte su questo e continueremo giorno per giorno, perché l'unico modo di fare il cambiamento non è l'inaugurazione di questo, di quello, l'ideona che ti viene, ma è un lavoro costante e continuo tutti i giorni. Ed è quello che facciamo. Allo studio un parco tematico a Tessera? Abbiamo pensato che le aree di Tessera, del quadrante di Tessera, le vogliamo immaginare in un grande bando pubblico, evidentemente, rivolto agli grandi investitori del mondo, dove ci potrebbe essere una grande Walt Disney, un grande parco a tema, sì, per i bambini, per le famiglie. Crediamo che Venezia potrebbe avere un grande appeal su questo. A noi farebbe molto comodo, creerebbe sicuramente qualche migliaio di posti di lavoro, potrebbe essere un'ottima chance anche per studenti, per rinforzare un po' il lavoro e lo studio, perché sono poi i lavori che conosciamo essere lavori per giovani. Potremmo, insomma, riempire qualche appartamento. Se riuscissimo a far partire questa iniziativa, mi sembrerebbe molto interessante, molto vicino al terzo aeroporto italiano, perché, insomma, con 20 più, 20 milioni di persone che vengono, potrebbe essere un bel affare per tutti.